Quando vedranno la gloriosa fine, verranno a cercarci per assaporare gli ultimi istanti di questa inutile battaglia. È la loro natura. Lascia che vengano e vedano la nostra vera forma. Ciò che faranno allora, svincolati dalla speranza, dimostrerà chi sono realmente. Perché soltanto alla fine ci rende liberi. A presto. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho letto di loro. Qual è la parola umana? Pirati. Contro quei fuorileggi ci vorrebbe l'intera avanguardia. Beh, pronti a salpare? Mostra a quei pirati cosa succede quando incrociano il ragno. Ero tu abbia abbondanza di munizioni, guardiano. È ora di far saltare questo cattolcio. Hai preso tutto, guardiano. Scusa, mi sono fatto prendere da tutto questo andare all'avventura.